Rosa per Valerio Napoli, Gessui Giuseppe, festival a qualcuno piace in breve. Bene, che devo dire? Cioè, allora, a me... Aspetta, aspetta, un momento. Gessui Giuseppe è un monologo, un breve monologo, su una storia molto particolare che riguarda appunto Giuseppe e il marito di Maria di Gazzaret e quello che ha trovato formidabile l'interpretazione di Valerio, insomma, la sua capacità di trasformare un argomento anche così sacro in un pezzo di teatro popolare. Grazie per la visione!